Vorrà pur dire qualcosa se due intellettuali conosciuti, apprezzati, noti soprattutto fuori la cinta d'Aziaria di Avellino che dentro abbiano deciso di non restare indifferenti alle sorti della città, scrivono libri e saggi di filosofia, hanno vite oneste e liete, belle famiglie, presumo anche buone pensioni, perché dunque Luigi, Gesù, Anzalone e Giuliano Minichiello decidono di esporsi in primissima persona perché, come dicono Avellino, viva, è quasi obbligatorio chiedersi non solo e non tanto perché lo facciano, ma quale segnale possiamo e dobbiamo cogliere. Entrambi hanno avuto esperienze politiche e amministrative, ma sia Anzalone che in misura Maggiore Minichiello sono espressioni, direi, militanti di quella talvolta fantomatica società civile che da decenni nella sua gran parte ha privato Avellino della sua voce. Questo silenzio non ha giovato né alla società civile né alla politica né agli amministratori della città, si sono sentiti autorizzati, anche quando hanno fatto bene, a fare di tutto e di più una società civile che riprende voce e ruolo nel discorso pubblico, sollecita chi esercita le funzioni pubbliche alla responsabilità, alla riflessione, all'ascolto della città. E dunque è auspicabile che questa iniziativa assunta da Anzalone e Minichiello, a prescindere dalle sue stesse sorti, solleciti altre voci di uguale autorevolezza e ovunque esse siano collocate, a farsi sentire senza il sostegno, senza la vigilanza di queste voci. Ogni progetto politico e amministrativo si rivelerà un ulteriore drammatico passaggio a vuoto. Minichiello, che è un pedagogista di fama e non usa le parole a casaccio, ha descritto una città listata a lutto. Si rifletterà, e come, su una città diventata non luogo, che sparisce giorno dopo giorno, che si sottrae a se stessa, oppure diranno che insomma la filosofia è una cosa e la politica è un'altra cosa. Anzalone e Minichiello saranno pure armati di fionde, ma forse è proprio questa la forza evocativa che discende dalla loro iniziativa. Hanno messo sul tavolo, lo dico senza retorica, il pane e le rose. Nella città listata a lutto, questa è una buona notizia, una speranza sulla quale tutti dovrebbero sentirsi chiamati a misurarsi.